Come si chiama il papà? Il papà si chiama Luigi. Quanti anni ha? Ha quarantotto anni. Come sta? Sta bene. Dove sta? Sta in ufficio. Che cosa fa? Lavora. Come si chiama la mamma? La mamma si chiama Sonia. Chi è Sonia? Sonia è la moglie di Luigi. Luigi è il marito di Sonia. Come sta? Così, così. È molto stanca. Quanto tempo lavora? Lavora dalle nove di mattina alle sette di sera. Torna a casa tardi. Quante volte lavora? Lavora? Lavora sei volte a settimana. Quanto dista la casa dal ufficio? Quanti anni ha il figlio? Il figlio ha quindici anni. Che cosa fa? Studia italiano, inglese, cinese, giapponese e coreano. Ha una sorella? Sì, ha una sorella di diciannove anni. Si chiama Caterina. È la figlia di Sonia. Come sta il fratello di Caterina? Caterina sta bene. Adesso è felice. Caterina ha il ragazzo? Sì, si chiama Mario. Quando vanno dagli zii, vanno dagli zii domani. A casa degli zii ci sono anche i figli degli zii. cioè i cugini e anche i nonni. Sì. Sì. Sì.